Allora, la base del cranio risulta avere una superficie molto occidentata per via della presenza di solchi e circonvoluzioni dei lobi del telencefalo, solchi vascolari, rilevi ossei. Comunque sia, possiamo vedere la base del cranio come delimitante la fossa cranica inferiormente e per semplicità quindi dobbiamo distinguere, dobbiamo anzi dividere la fossa cranica in anteriore, media e posteriore. Sono tre fosse pari e diciamo inoltre che la base del cranio è costituita dalle ossa in senso antero-posteriore, frontale, etmoide, sfenoide, temporale e occipitale. Dunque, vabbè, come sappiamo la volta è separata dalla base del cranio, dal piano inclinato immaginario che va dalla glabella dell'osso frontale, della scuola del frontale, alla protuberanza occipitale esterna. Adesso parliamo della fossa cranica anteriore. La fossa cranica anteriore presenta come limite anteriore il piano che seziona il cranio e lo divide in volta e base, come limite invece posteriore il margine posteriore delle piccole ali dello spenoide. e centralmente, quindi questo postero lateralmente, mentre centralmente il solco prechiasmatico. Vabbè, ovviamente lateralmente è delimitata sempre dalla parte inferiore della scuola del frontale. Ok, lungo la linea mediana vediamo innanzitutto la parte inferiore della cresta frontale che termina poi nel foro cieco. Il foro cieco prosegue posteriormente, cioè, posteriormente al foro cieco abbiamo la crista galli dell'etmoide, che è la parte della lamina perpendicolare che sovrasta la lamina orizzontale, che appunto si trova ai lati della crista galli e costituisce la piattaforma cribrosa, la lamina cribrosa che è forata per il passaggio dei filuzzi del nervo olfattivo. Poi abbiamo la sutura spenoetmoidale e, vabbè, è anche quella spenofrontale, vediamo ai lati, e proseguendo posteriormente arriviamo al solco prechiasmatico, che accoglie il chiasma di nervi ottici e lateralmente vede l'apertura del canale ottico nel foro ottico, che lascia passare il nervo omonimo, i nervi omonimi, perché sono due i fori ottici. Lateralmente, invece, abbiamo la porzione orbitale dell'osso frontale nella sua faccia interna, che presenta le impronte digitate, dovute alle circonvoluzioni dell'emisfero, c'è del lobo frontale, del telencefalo, e posteriormente il margine posteriore e libero delle piccole ali dell'osfenoide che terminano medialmente nei processi clinoidei anteriori. Per quanto riguarda la fossa cranica media, essa è delimitata anteriormente dal limite posteriore della fossa cranica anteriore, quindi condividono lo stesso limite, lateralmente dal piano che separa volta e base, e posteriormente dal margine superiore della piramide del temporale che è attraversata dal solco per il seno petroso superiore, che vediamo qui. Dunque, come vediamo, accoglie fondamentalmente l'osso temporale e l'osso sfenoide. Centralmente, quindi, ah, centralmente il limite posteriore è dato dal dorso della sella, la lamina quadrangolare, che è il limite posteriore della sella turcica. Sella turcica appartenente alla faccia superiore del corpo dell'osfenoide, che è ben apprezzabile, qui appartiene alla fossa cranica media, appunto, e notiamo anche la fossetta ipofisaria contenuta nella sella turcica, che accoglie l'ipofisi. Poi, posterolateralmente, troviamo il solco carotideo, quindi, dicevo, il solco carotideo, che posteriormente si affaccia sull'apertura esterna del canale carotideo, che sostanzialmente è presente nell'apice della piramide del temporale. In prossimità dell'apice della piramide del temporale troviamo il foro lacero, che è qui, e che è delimitato lateralmente da questa sporgenza ossea, che è la lingua sfenoidale. Ora, lateralmente, la fossa cranica media presenta le ali dello sfenoide e le grandi ali dello sfenoide e la faccia intera della squama del temporale, fondamentalmente. Notiamo anche le impronte digitate, anche qui le impressioni digitate, dovute alle circonvoluzioni del lobo temporale, del telencefalo. Sono presenti molte fessure ai fori. Partire, quindi, in senso antero-posteriore, abbiamo, qui non è visibile, ma tra le piccole ali dello sfenoide e le grandi ali dello sfenoide abbiamo la fessura orbitaria superiore. Poi, ecco, come è meglio visibile qui, il foro rotondo, che lascia passare il nervo macellare, il foro, ah, e la fessura orbitaria superiore lascia passare il nervo oclomotore, oftalmico, abducente, e così via. Quindi, tutti, diciamo, tutte le strutture che andranno poi ad aiutare funzionalmente l'occhio, fondamentalmente. Poi, dicevo, abbiamo il foro ovale che lascia passare il nervo mandibolare e il foro spinoso, questo qui, è presente anche qua, ovviamente, e che lascia passare l'arteria meningia media e il nervo spinoso. L'arteria meningia media che poi vede, tra l'altro, proprio in prossimità del foro spinoso, sulla faccia interna, qui, del temporale, il solco per l'arteria meningia media. Beh, cos'altro va detto? Sicuramente che la piramide è interessata superiormente dall'impronta del trigemino. L'impronta del trigemino che dovrebbe essere qui. poi abbiamo anche il solco per il nervo grande, piccolo, petroso che vediamo qui, ma ecco, non è molto ben visibile. e fondamentalmente questo, sì, ovviamente l'impronta del trigemino accoglie il ganglio del trigemino e, vabbè, ovviamente, poi anche tutte le altre particolarità della piramide, del temporale, che sono il tegment impani, quindi nella superficie anterosuperiore della piramide, l'eminenza arcuata, ma non sono ben visibili da qui. E poi tra squama e, quindi lateralmente tra squama e, appunto, tra faccia interna della squama e faccia anterosuperiore, o comunque è la piramide, vi è la fessura petrosquamosa. Allora, per quanto riguarda la fossa cranica posteriore, essa condivide i limiti anteriori con la fossa cranica media, nel senso che coincidono con i limiti posteriori della fossa cranica media, e cioè fondamentalmente il solco del seno grande pedroso che coincide con il margine superiore della piramide del temporale. E con la faccia posteriore del dorso della sella e il limite anteriore e centrale, e articolandosi con la parte basilare dell'osso cipitale forma il clivo. poi i limiti laterali sono costituiti dai solchi per i seni trasversi e posteriormente invece il piano che appunto separa volte basse a costituire il limite posteriore della fossa cranica posteriore. Ora, prendiamo il grande foro cipitale, il grande foro cipitale lascia passare quindi varie cose i nervi allora vabbè il bulbo le arterie vertebrali e i nervi accessori vertebrali e il ramo ascendente del nervo ipoglosso se non sbaglio sì le radici ascendenti poi ecco anteriormente al grande foro cipitale abbiamo il clivo che si forma nella sincondrosi speno cipitale con il dorso della sella nel corpo spenoide e accoglie midollo e ponte cos'altro dire posteriormente parte la cresta occipitale interna che arriva alla protuberanza occipitale interna e ecco ai lati della cresta occipitale interna abbiamo le fosse cerebellari che colgono gli emisferi cerebellari per quanto riguarda invece appunto i solchi dei seni trasversi e si continuano poi nel solco nel seno sicumoideo che è qui e che ecco vede il foro mastoideo e termina quindi centralmente è presente il foro mastoideo e termina nel foro giugolare dovuto alla all'unione diciamo così all'articolazione con l'osso temporale di colloci vitale dato che l'osso temporale la piramide dell'osso temporale nel suo margine posteriore aveva appunto un'incisura giugolare si forma un foro giugolare diviso in una parte anteromediale e una posterolaterale dal processo intragiugolare e l'avena giugolare interna passa per quello posterolaterale per quanto riguarda e posso anche dire leggendo però perché non lo ricordo che è la parte anteromediale è attraversata dal nervo glossofaringeo andiamo qui glossofaringeo e in quella posterolaterale oltre alla vena giugolare interna passa il nervo vago e il nervo accessorio per cui come stavo dicendo nervo vago e nervo accessorio adesso fa parte della fossa cranica delimita la fossa cranica posteriore anche la faccia posteriore del della piramide del temporale che è interessata dal foro acustico interno dall'apertura interna del canicolo del vestibolo che qui non è visibile e per quanto riguarda invece le parti laterali dell'osso occipitale abbiamo vabbè ovviamente i condili che sono posti esternamente e anteriormente l'apertura del canale dell'ipoglosso vediamo meglio da qui ecco e posteriormente invece l'apertura del canale condiloideo che non mi seleziona ma è questo è un'apertura che non mi seleziona Grazie a tutti.